Go! Eccoli! Eccoci qua! Buonasera! Nell'attesa che arrivate un po' tutti quelli che io e il sor Marco Yes! Piliamo e condividiamo! Un po' di cosine! Buonasera bambini! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Come va? Come va la GV? Tutto a posto? Bene, bene, bravi! E niente, che si dice? Si dice che... Ogni tanto loro fanno le dirette anche loro, sai? Sì! Ma è sempre in posto perché non li becco mai! Che andate su Meta Detector e guardate anche loro! Che si parla di musica, si parla di rock, si parla di roba con... Allora stasera noi abbiamo questa curiosità da parlare con voi un po' riguardo un lato importante della musica, delle band. Aspettiamoci, un po' di gente c'è! Che non è musicale ma è d'immagine, quindi stasera si parla dell'immagine di una band. Vedi io? Guarda che immagine che ho avuto! Quanto influisce per voi l'immagine di una band? No, poi soprattutto cosa si pensa quando si parla di un'immagine di una band? Solo la foto? Pensate che dipenda da come si pongono in maniera naturale? O che sia costruita? Quanto pensate che sia costruita e quanto no? Quanto influisce sul successo di una band? A parità di qualità musicale? Bisognerebbe sentire uno che se ne intende, perché siamo un po' in inno. Che se ne intende bisogna vedere chi c'è che se ne intende, credo che nessuno se lo possa intendere, perché poi ognuno la può pensare come vuole. Qualche produttore di serie. Ma diciamo che in generale ognuno, chiunque, quando si fa un progetto musicale, che si fa una band, che si suona in una band, si pensa alla musica ma si pensa anche al modo di presentarsi, no? Perché comunque da quando ci si esibisce poi live c'è tutta una serie di cose da mettere a punto anche per come ti poni sul palco. E anche oltre a come ti poni sul palco poi, di conseguenza, anche a che caratteristiche vuoi che vengano trasmesse di te al pubblico. Certo. E quindi anche il genere influisce, perché magari se sei di un genere devi comunque attenerti a una certa tipologia di colori, di immagine, ogni genere ha il suo, no? Oppure ne fai uno tuo. Sei talmente estroverso, originale, che hai voglia di comunicare qualcosa di strano e lì magari rischi un po' di più perché puoi essere... Rischi che non finisca bene? Rischi che non finisca bene oppure rischi che finisca benissimo perché, insomma, abbiamo esempi nella storia della musica in cui, insomma, quelli più eclettici hanno fatto successo... Eclettici che vuol dire? Che sono... Eclettici? No. Elettrici? Elettrici. No. Elettrici. Ah, elettrici, sì. Elettrici, sì. Elettrici. Ok, no, non capivo... Vabbè, ma andate lì sotto, andate a cercare l'etimologia della parola eclettrico, a Marco e... Comunque, ho visto, ultimamente c'è caldo, c'è 25 gradi fuori oggi, si sta proprio bene. Sì, davvero, sì, 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 sì. 25-26. Dentro ce n'è un po' meno, ma fuori si sta proprio bene, guarda. Ma tu ve lo stai leggendo stavo... Non lo so. Ma dove lo vedi 25 gradi? Non tu lo vedi, è scritto là. Veramente c'è scritto 17, là. 17? C'è 17. Ecco perché sentivo freddo. Apri la finestra, no? Ma vabbè. A parte il termostato di Marco che è sbalvolato. Termostati. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Vedo. Un po' di gente c'è, dipende, Facebook, Instagram. Facebook e Instagram c'è la Claudio. Ah, va bene. Io c'ho Facebook. Allora, dai, vediamo un po' di aprire questa discussione. Per quanto riguarda noi l'immagine, Claudio? Bisogna vedere... Allora, credo che l'immagine... Poi, sta a chi ci sta seguendo e chi ci segue ormai magari da tempo, dire quello che pensa sulla nostra immagine. Io credo che poi alla fine sia quella nostra... Non fate body shaming perché qui in linea non c'è nessuno, siamo tutti oversize, non ci rompete le balle perché noi ci crediamo a mangiare, siamo italiani, quindi body positive e don't break the ball. Un po' attenzione, ce li arriva a mangiare e gli esami di sangue sanno buoni, quindi non è che... Cioè, ragazzi, qui c'è la salute, alla base c'è, la salute. E la pasta. Oh, e la pasta. E la pasta. E l'abbondanza, vedi, guarda. Salute e pasta al sugo. E l'ho affettato. Vogliamoci bene perché, insomma, oltre a, come diceva, oltre le gambe c'è di più. Sì, sì. C'è anche qualche cosa. Donne, donne. Bravo. Giotrillo. Ah, no, squillo, scusa. Cioè, la squillo e... Ma, va bene, la cosa. E la osa, la... La Sabrina Sarema. La Sabrina Sarema. Quella sotto Napoli, non è. Stavo dicendo, comunque, che l'immagine nostra, a parte avere un certo stile, credo che si sia un po' piano piano col tempo sviluppata anche per la nostra personalità, perché non abbiamo mai avuto un modo di, ne so, vestire, troppo teatrale, soprattutto che non ci rispecchia... No, allora, partiamo dal presupposto... Quindi non siamo diversi da loro? No. Partiamo dal presupposto che, quando abbiamo... Troppo fuori di cesta, sì. Ma di molto anche. Fuori di cesta. Ci siamo mai stati. Quando abbiamo iniziato la nostra, fra virgolette, gavetta con il tributo, ecco, lì magari eravamo un po' più vincolati, perché facendo un progetto di tribute band, devi comunque, fra virgolette, ricopiare o quantomeno ricalcare un po' lo stile dell'artista che vai a tributare e quello è un po' una cosa obbligata. A tributare sembra quasi a pagare le tasse. Quello che però è poi stato il nostro percorso, non è stato molto dissimile poi da quello, perché comunque l'indole era quella. Il genere è stato sempre quello e quindi, insomma, si parla di... Certo, è difficile che ci troverete su un palco... Questo mi viene in mente, una battuta. In jeans... E camicetta a quadretti. Ecco, ora. In jeans e una maglietta. In jeans e una maglietta. Eh, sì. È difficile, insomma, che... Sì. Ma perché, insomma... Con l'ascella pezzata. Ci ritroviamo magari ad avere una certa immagine che sia anche consona a quello che facciamo. A quello che portiamo, sì. E' una sfere che uno trasmette attraverso la musica. Eh, sì, mi ricordo appunto un commento di uno dei primi personaggi che, insomma, ci seguivano un progetto ancora prima della tribut che ci disse, mi raccomando, quando salite sul palco, perché si faceva comunque un rock di stampo un po' dark, eccetera. È possibile che qualche componente ci veda... Sì, mi ricordo, Vag, io, boh, chi lo sa. Vag, lo saluto di qui. Ci saluta. Francesco Perrotta. Ciao, Franci. Franci, la vita non ci si vede, non nemmeno il finale. Se ci ascolti, batti un corpo. Se ci ascolti, ricordati delle nostre avventure con gli estesia. Come scordarsi. Anni e anni fa. Hai detto una parola che non dovevi dire, eh. Perché? Perché? Perché quella parola lì potrebbe essere frutto di un questions... Eh, vabbè, vabbè, io vi ho conosciuto, vi ho conosciuto per la formazione, quindi... Eh, vedrai, perché rinegare era quello il nome, abbiamo viaggiato. Ma a capò vi si fa il culo. Ma invece non è andata così, ce l'hanno fatto loro a noi. No, comunque io volevo finire il discorso. Questo personaggio, uno ci consigliava, quando saremo saliti sul palco, non vi mettete, ecco, la camicetta a quadri e le magliettine, le t-shirt bianche. O come ha fatto, o meglio, voleva fare una conoscenza di... Anzi, lo saluto se forse... Anche è stato presente. No, no, qui è stata dedicata dei saluti. Sì, delle rimembranze. Il nostro amico Giacomo Calloni, no? Oh, ciao, Giacomo. Grande Jack, che lui voleva salire sul palco una sera con la maglietta bianca della NASA. Ma era nerd, però lo poteva fare. Ho capito, però insomma, dopo con il progetto del tributo a Nightwish, presentarsi in kilt e maglietta bianca della NASA, era un po'... Eh vabbè, dai. Eccessiva. Borderline. Sì, sì. Mi mancava la fascetta qui e faceva Axel Rose. Bella roba. Mi mancava solo quello. Ma lui se lo poteva anche fare. Sì, è vero, Calloni lo poteva anche fare. E quindi, a parte questo, che poi, insomma, torno a ripetere, mai limitarsi nell'espressività dell'arte, però avere comunque una coerenza. Poi ci sono state delle bende che se ne sono altamente fregate dell'immagine e hanno fatto successo lo stesso. Quindi, ragazzi, insomma, datevi pace. Quindi, secondo me... Quando salite sul palco, per come siate fatti, cercate di essere più liberi possibile. Poi veniamoci incontro, insomma. Ah, va, certo. Altra cosa, per i progetti nati a tavolino, non decidete voi, quindi. Comunque, mentre Calloni cerca di... Siccome non ci capisco niente. Io non ho neanche gli occhiali stasera. Allora, ci sono anche med che fanno un genere musicale particolare. Ma chi è che parla? Ma poi preferiscono rimanere se stessi nel vestire. Certo, allora, il genere particolare, bisogna vedere che particolarità hanno. E rimanere se stessi nel vestire, certo. Allora, il vestirsi in una maniera particolare solo perché fa scena, personalmente, poi non so, magari in posto, futurista, non mi è mai piaciuto. Anche perché poi va a finire che, sceso dal palco, non sei te. Non sei te. Ecco. Ma mi accelta. Deve rispecchiare un po' anche lo stile di vita che hai sempre. Ora, ora... Cioè, io mi sono sempre vestita di nero o scuro, ma per gusto personale. Ovviamente non è che vuoi fare una cosa diversa sul palco e mettermi in fucsia perché ho scelto un tipo di genere. Io ti dico più che altro il contrario. Se fossi magari una... Ora, non è il tuo caso, ti faccio un esempio estremo. Se tu sul palco ti esponi con uno stile più come ti vesti normalmente di nero, un po' più, diciamo, dark. Sì, un po' metallaggio. Sì, diciamo... Ma nemmeno, un po' scura. Sì, scura. Sì, scura. I colori scuri, colori dà. Di certo se eri una persona che è scesa dal palco, invece di indossare gli anfibi, ti mettevi tacco 12 e da ieri, onestamente andavo un pochino a contrasto. Ma ora si parla magari di, secondo se è una divisa dal lavoro, perché uno lavora in un determinato contesto, è costretto magari. Vabbè, quello sai, sono i ruoli che hai diversamente. Magari in una situazione del genere, uscire il sabato sera, esci in quella maniera. No, ma io, noi eravamo, se eravamo partiti però con una strada, si è stato, giustamente. Sì, no, ma è un esempio quello che ho fatto io, ho divagato sull'aspetto più personale. C'è poi anche un altro aspetto importante che a volte uno tralascia, che sono i contratti che fanno le persone, fanno l'azienda. E' quello che stavo dicendo, i progetti comunque nati a tavolino, purtroppo per fortuna o per scelta, a tavolino, devono sottostare a un programma, cioè è un programma stabilito che è confezionato e quindi hai delle linee guida da seguire che possono anche non essere e non rispecchiare proprio la tua indole. Però è un progetto e quindi lo faccia male. Dipende dal tipo di progetto, dal tipo di immagine che ti viene fatta e se l'immagine la metti fuori te o se te la mette fuori qualcuno. Se te la disegnano addosso la devi interpretare. Se te la disegnano è normale che… È una sorta di… è una cosa al confine fra la libertà di espressione e la musica e l'interpretare un ruolo, perché comunque devi interpretare un ruolo che spesso non è proprio nelle tue corde ma fa parte del progetto che stai portando avanti. Questo è… l'immagine però non si ferma al vestito perché è fatta di tante altre cose, comportamenti. Certo. Oggi si parla del mainstream comunque è fatta anche da quello che vogliono che tu sappia della band, quindi una serie di notizie, di gossip eccetera fanno ecco l'entourage della band e quindi creano quell'alone di mistero o di sensazionalità a seconda di quello che mi hanno deciso un po' di… di far vedere e questa è l'immagine, ci sono delle categorie di professionisti che lavorano esclusivamente per la costruzione o l'ottimizzazione dell'immagine di una band, questo è quanto, quanto vi interessa non lo so, quanto vi piace non lo so, però sappiatelo che spesso quello che si vede è un… e lo sappiamo tutti insomma, è risultato un po' di un… Aggiustamento. 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 Brutto l'ha dissi aggiustamento ma rende… Ma è spettacolo. Ma si parla di spettacolo. Certo. Te l'hai pagato per vedere una cosa… Uno spettacolo. E quindi questa cosa è costruita dai minimi dettagli. Si va da gruppi storici che hanno basato sul palco e sulla teatralità, la carriera, mi viene in mente Kiss o mi viene in mente Lordi, mi viene in mente gli Slipknot, mi viene in mente insomma gruppi che comunque ne hanno fatto veramente una particolarità a… a gruppi più… più easy. Che lì poi dipende, non è solo un discorso di modo di vestire perché noi abbiamo iniziato il discorso su quello. Si. Perché è la prima cosa… Perché l'immagine… Si. A primo impatto la prima cosa è vedi è uno come è vestito ma… Ora… Anche come sta sul palco… Ho detto la battuta prima io sulla stazza, no? Ma comunque ora sono anni che passa il messaggio di… il body positive è praticamente il voler accettare anche la non perfezione nella presentazione, cosa che anni fa non era… era forse un discriminante nel poter andare avanti in un progetto perché comunque c'era dei produttori o delle… delle situazioni in cui se non eri una taglia 42 o non avevi una certa stazza non facevi niente. vogliamo ricordare il dramma e lo scandalo che l'avevano fuori che era negli anni, anni 90, fine anni 80, dei Milli Vanilli. Ah beh sì. Cioè non so se lo sapete ma me lo diciamo… Questa è storia… Questa è storia musicale degli anni 80-90. Commerciale… Si. Del fatto che c'era la band che era una sorta di pop dance diciamo che aveva un'immagine molto particolare, aveva il cantante che era un fotomodello diciamo. Si. Soltanto che poi è venuto fuori che in realtà le canzoni non le aveva cantate lui, anche perché in ogni serata lui era in playback. Il problema è che poi questa cosa dai e dai è venuta fuori e c'è stato un bel po' di problemi. Questo per significare… Bella immagine. Bella immagine. Bella immagine però ovviamente… Finta. Finta perché non era lui che cantava ma era un altro studio, c'era qualcun altro. L'immagine della persona, del bellocione… L'artista diciamo è stata buttata in secondo piano perché non era altrettanto presentabile quanto il bellone che poteva tirare vendite. Andate a cercare un po' di… La storia dei Milli Vanilli. E altra cosa che mi viene in mente riguardo l'immagine… Aspetta aspetta. Che c'è domani? Che ti fai? Eh la vai a cercare… No perché? La trovare i repertori. Perché io ho il vinile dei Milli Vanilli. Ragazzi guarda. Cioè questo qui… Guardate… Come si fa? Capito? Questa è roba storica davvero eh. Cioè qui siamo a dei livelli stratosferici. Ma da lui che testa hai già? Madonna che taglio quadrato. Eh cazzo… Quindi con questo… Questo è Calton Banks… Si… Si… Calton Banks… Comunque vabbè… Con questa chicca… Guarda qui… Andiamo a su con… E questa cosa qui verrà regalata a chi… Riuscirà a… Davvero? Sarai quella che non la regala Claudio… Questo vinile… Vai… Su offri… Su… No… Assolutamente… Allora… Altra cosa che mi viene in mente… Solita discriminazione d'immagine… Una delle cantanti… Nonché autrici… Nonché… In Italia sarebbe paroliere… O scrittrice… Di musica pop americana… Che insomma è stata dietro le quinte per anni… Che si parla di Sia… Voi la conoscete per i successi di… Recenti… In cui si è fatta vedere… Ma non troppo… Con questa immagine… Con queste parrucche… A coprire tutto il viso… E le… Diciamo l'alter ego della ragazzina ballerina… Insomma… Questa immagine molto studiata così… Eh… Parla di un problema di porsi… Cioè… Di una… Probabilmente… Un non sentirsi adeguato… Alle leggi di mercato… Che lei… Magari… Avendo più qualità… Anche di molte altre… Che si sono buttate subito fuori… È sempre stata dietro… E ha fatto fatica… Diciamo… A mostrarsi… Completamente… Fino… Insomma… Alli ultimi tempi… Che ora… Diciamo… Ha fatto più pace con se stessa… Però ecco… C'è anche… Un discorso psicologico dietro… Che non è… Non è… Da poco… Perché comunque… Quando si parte… Diciamo… A fare un progetto… Che prende piede… Che comunque… Si parla di contratti… Si parla di esibizioni live… Di costruire appunto… Un'immagine un po' più complessa… Eh… Purtroppo… A volte… Oggi meno… Ci parla di… E… Si sta cercando di… Di… Togliere questi problemi… Ma… Ci sono stati degli anni… Insomma… In cui… L'immagine… Venivi messa davanti… Un po' a tante scelte… Especialmente… genere femminile. E quindi che immaginerità è il nuovo singolo che uscirà quando esci? Allora il nuovo singolo che esce il 21 di aprile, ora ora, ve l'ho detto e ve lo ripeto, è una tematica universale perché si parla di qualsiasi cosa che meriti essere vissuta e per cui meriti combattere, quindi che sia anche la libertà di espressione. Quindi l'immagine che dà. Anche l'immagine o l'accettarsi per quello che siamo e non farne un problema di barriera che ci fermi rispetto a quello che vogliamo dire. Conservando sempre però, secondo me, questo è il mio parere, un certo spirito estetico. Bisogna anche essere abbastanza capaci di capire di estetico a chi è davanti e quello che invece rischia di cadere nel grottesco oppure nel cattivo gusto. Questo insomma ci sono delle band o dei progetti musicali specialmente nel pop che ultimamente insomma fanno un po' acqua riguardo a questo. Pur avendo un'immagine. e non cadere nel grottesco. Si, si, si. Si tenta un po' di disforare anche questo. Riesca a leggere? Allora, oggi stavo riascoltando il Lucifer Bliss del vostro primo album. Mi piace moltissimo l'unione di una voce melodica unita ad una più graffiata, grattata. Allora, intanto salutiamo Giovanni Bardazzi, che vogliamo l'occasione che è una vita che non ci si sente. Che è la voce, che in realtà l'ho visto in pochi giorni fa. Quindi noi invece è un po', quindi ci salutiamo, che è la voce che sentite il Lucifer Bliss, che è stata voluta e cercata proprio per questo contrasto, per avere questo contrasto perché anche se avete ascoltato e capito il testo, si parla di, è un po' come se fosse una diatriba fra gli angeli e demoni. Quindi abbiamo una voce femminile su, insomma, ottave più alte e più etere e quindi ci serviva a chi interpretasse al meglio il ruolo della controparte di Lucifer. E quindi la Lucifer Bliss è stata fatta in questo, in quest'ottica. 2011. 2011, sì, si viene dal 2011. Esattamente. Dal primo album, Heroes of Wonder. Sì, album di debutto nel 2011. Che sei andato a vedere le foto, vedete quant'era giovane Claudio. prodotto dal nostro caro, carissimo, che ogni tanto ci sentiamo anche per, anche per vari svarioni telefonici ci sentiamo, con Frank, Frank Andy, salutiamo Frank, se ci segue. E quindi, niente. Niente? Ringrazio del complimento perché comunque è un pezzo a cui siamo ancora legati, nonché nonostante sia passato anni e anni. Ecco, sono anni e anni, era stata la prima, diciamo, occasione per poter sperimentare questo discorso, questo connubio di voci, che tendenzialmente, lo dico, ma perché, non perché, è sempre stata una cosa che non ho mai amato più di tanto, ma in una situazione del genere era proprio, compositivamente, necessario poter andare a sviluppare un brano in quella direzione. Era anche, secondo me, più semplice e istintivo che andare magari a lavorare la voce in una seconda maniera, la mia, e comunque storpiarla o lavorarla in una maniera da renderla diversa. Sicuramente se l'avessimo fatta uno dei componenti della bella per fare una sorta di seconda voce ci avrebbe reso un quarto di quello rispetto a quello che... No, 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 poi le collaborazioni sono sempre benvenute, quindi, beh, venga, ben venga. Quindi, Joseph Gris, dov'è che se lo ascoltano la gente se vorrebbero, volessero... Attenzione, ecco, qui c'è da fare un piccolo annuncio. Allora, siccome Ecos of Wonder, per una questione di chiusura del design, è una cosa che è da qualche mese, poco tempo, però comunque è normale doverla tirar fuori, da qualche mese il distributore digitale dove era distribuito Ecos of Wonder ha chiuso i battenti e sta trasferendo tutto il catalogo su un'altra piattaforma. Quindi, Ecos of Wonder attualmente sui canali, quelli di distribuzione digitale, non è presente, ma la potete trovare comunque nel nostro canale YouTube. Ci sono i vari brani. Lo riconoscete dalla copertina di Ecos of Wonder? Con il classico, diciamo sì, Lyric Video con i testi. Quindi lì potete trovare tutti i brani di Ecos of Wonder. Ma prossimamente verrà ripubblicato tutto e quindi sarà di nuovo disponibile sulle piattaforme digitali e sicuramente tanto sarete informati, quindi al momento che sarà fuori ci sarà sempre di sicuro un annuncio. Ah, bene. Allora, che mi ci domanda? Marco, ti piace? Chissà che magari non possa uscire fuori con un'edizione un po' diversa rispetto all'originale. Guarda, potrebbe essere un'idea, festeggiare la riedizione con qualche novità. Sì. Allora, Kevin ci domanda. Marco. Le domande di Kevin e Marco. Questo non me lo scrollo più di dolce. Allora, ti piace il campanaccio della mucca sulla batteria? Sì, è l'accompagnamento. Al posto del ride ha detto sì. Al posto del ride ha detto sì. No, vabbè, piace, però su diversi, su... Dipende anche lì il brano, dipende anche il genere, quello che fai. Sì, sì, piace il campanaccio della mucca. Ora, detto così, però... Io ho capito, hai ragione. Sì, sì, ho capito anch'io, però è fantastico, cioè il campanaccio della mucca. Ti viene in mente la mucchina, la mucchina, la bistecchina. La bistecchina. La bistecchina. Vabbè, sì, 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 certo, certo, certo. Ma l'hai utilizzato in un brano? No, forse no. No, forse no, no. O forse nell'album. Ma che se non io? Non credo in questo, no. Nemmeno in quell'altro. All'ombra. Poi, discorso di... Proseguiamo la nostra ascesa verso la fine. Ascesa verso la fine. Certo. Certo, è poetica. Ragazzi, ma voi, io ne invento una più delusica, ragazzi. Vediamo. Allora, dicevo, l'immagine di una band, ok? Non solo il discorso di vestiti, vestiario, trucca, trucchettini, trucchettaggi, avviso. No. L'immagine di una band, anche su un lato, e l'immagine lì conta tanto, che più che immagine, io la definirei... Nomea? Brava. Brava. Nomea o... Non espropele. Eh? Nuda, no. Chi c'è? Nuda, no, no. Nomea o... Nomea o... Vediamo come la posso mettere... Non ci viene il termine, aiutateci voi, ci manca la parola. Ah, sì, così... Reputazione. Reputazione. Eh? No, no, facciamo... Reputazione. Eh. Reputazione. È più giusta, sì. Se non è più giusta. Sì, se non è più corretta. Reputazione. La reputazione potrebbe legarsi con l'immagine. Ma anche lì sappiamo che cosa è vero e che cosa è costruito. Boh, chi lo sa dalle notizie, quelle che arrivano, se è tutto un gossip fatto ad arte perché se ne parli, oppure è veramente così, io dalla mia parte ti posso dire che per quell'esperienza che si è avuta andando in giro a suonare anche in circostanze diciamo fra virgolette famose nel senso con personaggi di rilievo o in posti dove magari da qua sarebbe sembrato una cosa da giornali e da notizie strane, e ti posso dire che alla fine la realtà delle cose è molto più alla mano di quello che sembra. Ah, vabbè, certo. Cioè, c'è la parte comunque, diciamo, costruita e quello che fa parte dello show, però poi alla fine ecco tutte queste news di Camere d'albergo di Sparti. Questa è roba anni e nocana. Eh, ma comunque ora vedi stanno ricaricando questi cliché di rock maledetto, no? Quindi le leticate, quindi le liti fra il cantante e la cosa, quello ubriaco, insomma, sì ma no. In qualche modo c'è bisogna per forza, quando cala l'interesse di qualcosa o va tenuto, o cala, o magari va mantenuto bisogna arrivare a dire... Siamo a sintonina con Kevin stasera, eh? Eccoci. Oh, bene. Allora, sempre domande rispetto alla reputazione. Io vorrei mettere i due puntini sulle zero, perché sennò qui si può usare i due puntini sulle zero. Le domande che ci sta facendo questo Kevin Finoia, che lo conosciamo, ma non è che è parte della band o è... Sono domande che se ne sono... L'abbiamo assoldato. L'abbiamo assoldato, l'abbiamo assoldato. Sono domande che gli vengono di spontanea volontà. Non abbiamo creato niente di particolare, cioè non abbiamo pre... Parato niente. Preparato. Dai, taglia Marco, su. E quindi ci fa delle domande che prima della diretta parlavamo proprio di loro. E vabbè, ma ora insomma se ne parla un po' tutti di loro. Eh sì, vabbè. E quindi domanda, visto che si parla di reputazione di una band sul palco, cosa ne pensate dello stile della bassista De Maneskin? Allora, il fatto che tu domandi della bassista De Maneskin mi fa capire che lo scopo che voleva raggiungere l'ha raggiunto. Nel senso che quello di far parlare dello stile della bassista De Maneskin. Che? Che si ne... Se va a cena, se va a cena. Oh via, stasera ce la vuole raccontare. Allora, c'è Marco stasera con questa notizia ci ha fatto due balle così. Vai, dicela su. No via, voi l'avete letta a Pesaro, dai. Che non l'hanno riconosciuto in un ristorante. Anche lì prendetela con le pinze. Perché quando la guardano sul palco non la guardano nel viso, capito. Esattamente. Che anche per quello non l'hanno riconosciuto. Ecco perché erano diversi da loro. Sì, diciamo, discriminazioni strane. Perché sono diversi da loro. Sì. Lo scopo è quello, è quello, far parlare. E come dicevo prima, lo stile di Vittoria è niente di nuovo se non il cliché del rocker. Certo. Trasgressivo, la trasgressione, la libertà, la gioventù, il voler comunque attraversare i limiti anche di genere o di quello che è per far parlare, per fare esibizione, per fare spettacolo. Certo. Non è criticabile, anzi è comunque una mossa, tra virgolette, commerciale. Solo può permettere. Né nuova e né meno eclatante, se non quello di fare rock, di fare musica, di fare spettacolo. Se lo può permettere. Se lo può permettere. Però immagini l'audio nella sua... Cioè. Anche se prendiamo le ultime esibizioni di Sam Smith ai Grammy, quello che io dico è quello, non cadere nel grottesco. Ecco lì il grottesco, insomma, non è che ci siamo caduti, ma l'abbiamo superato. Quindi dobbiamo andare a cercarci i Grammy di che anno? No, quest'anno, quest'anno, sì. Quanto è? Un mese fa? Quindi non c'è neanche più il vincolo di sei bello te lo puoi permettere, non sei bello non te lo puoi permettere. Oggi, insomma, diciamo... Il discorso di essere bello troppo per mettere, dipende anche un po' di qualcosa... Esatto. L'indole che hai. L'indole che hai. Sì, sì, sì. È come quando... I keys non sono stati belli. No, appunto. Però sono stati grandi a mascherarlo. Eh, esatto. O a mascherarsi. Mascherarsi e mascherarlo. Quindi, nel senso, dipende un po' da come viene recepita. Cioè, certo c'è chi, per fare l'esempio di dover suonare a torso nudo o, insomma, da parte superiore nuda o semi coperta o quant'altro. C'è stato un'infinità, quindi... Sì, non è una cosa dire. Dai Rolling Stones, ai Red Oshiri Peppers... I G-Pop non si è mai vestito nella vita, quindi... Non si è capito mai che maglietta c'è addosso. Però, però, qui si parla comunque sia di front, cioè, sul palco che sta in front. Un batterista è solo senza maglia. È normale. In teoria non è normale, ma nemmeno proprio così di fuori, è anche un po' mascherato. Ma sai, vedi, allora... Un po' mascherato dalla batteria, ha visto? Se si prende l'esempio dei Maneskin, hanno voluto un po' racchiutere nel gruppo un po' tutte le caratteristiche del rock, no? Quindi abbiamo Damiano, che comunque... Sì, hanno fatto un po' una pratica d'immagine in quel senso lì. Bassisti, che comunque non sono i frontman, ma ne fanno di tutti i colori, mi viene in mente Flea. Grande! Grande Flea! Il number one! Una leggenda che continua ancora a essere leggenda e se ne strafrega di chi canta, chi c'è davanti, chi c'è davanti a lunghe. Il numero uno, il numero uno, il secco la cosina fatta a scheletro. Cioè, è uguale. Sì, no, non importa. S'è diventato anche Babbo. Davvero, è diventato Babbo. Te ne rendi conto? E quindi, ragazzi, non hanno inventato niente, non si inventa niente oggi perché è difficile inventare qualcosa. Hanno inventato in anni passati perché, benché se ne dica, ma personaggi come Marilyn Manson, come... Me ne viene in mente altri come Marilyn Manson, insomma, hanno apportato in quegli anni lì una bella scossa a livello di immagine perché comunque si parlava di roba veramente pesante. E che apprezzo ancora di più perché Marilyn Manson nel primo periodo era molto, cioè, il personaggio e l'artista, insomma, che era molto... Coincidevano. Coincideva. Ora vai a vedere le interviste e sembra di parlare con lo zio. No, io conosco una persona che se l'ha ritrovato accanto ad un pub a Londra e ci ha fatto bevuta e c'è stata una serata insieme e ha detto io... Mi sentivo io un demonio con un gentleman praticamente accanto e non sapevo nemmeno me gestire. Perché è veramente così. Sa recitare la parte. A me affascina questa cosa perché comunque è uno sdoppiamento grosso. Ecco, lì si entra nel discorso che l'immagine quanto deve essere coerente o quanto comunque lo sdoppiamento di una sorta di personalità. Ma quella è un'interpretazione teatrale. Sì, è come in un'intervista ha parlato anche Corey Taylor del fatto di lui, com'è come persona e com'è come si comporta sul palco. Quando si mette la maschera ed entra sul palco come Slipknot, si trasforma. Si trasforma, si trasforma, si trasforma, è come se prendesse possesso il suo corpo da parte di un'altra persona. E' anche un escamotage non da poco perché magari persone o caratteri che non hanno tanto anche confidenza con il palco, con l'escamotage della maschera diciamo sono anche più liberi di esprimersi. Certo. E quindi ben venga. Va benissimo. Bene, bene, bene. Allora ora io sono le 9 and 30 takes. Allora ragazzi, le 36, abbiamo passato un'altra nostra quarantina di minuti a chiacchierare, gli argomenti sono musicali, quindi a noi ci piace un po' parlare della musica, non solo della nostra ma in generale che fa parte della nostra vita. E niente, vi ringraziamo di seguirci sempre. Vi spogliamo a Kevin l'ultima domanda, poi le prossime mercoledì prossimo Kevin. Qual è stato il primo gruppo metal che avete ascoltato e che tuttora non vi stancate mai di ascoltare? Eh, è un casino, mi sa che se ne parla mercoledì prossimo, sai? No, più che altro è un problema dire qual è il primo gruppo che non ci ha stancato. Ah, ecco beh. Ma a me è problematica. Comunque. Questo è un suggerimento perfetto per l'argomento della prossima. Eh sì, la prossima volta. Però guarda, noi se non vuoi altro qualche indizio si è dato su questo argomento. Perché le milestones... Sì, sì. Dai, se ne ragiona allora mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo approfondiremo questa tematica, cioè i gruppi che rimangono capisaldi del nostro gusto musicale e delle nostre influenze attraverso tutti gli anni. Cioè vi saranno delle belle, eh? E ne parleremo perché ci sono veramente delle band che me ne sta venendo in mente qualcuna della mia storia, almeno personale, che... Roba... C'è un pensione. Più che altro... Sì, ormai non ci sono nemmeno più. Ci divertiremo sicuramente perché abbiamo influenze abbastanza diverse e quindi ci sarà una... Si spazierà un po' in tutti i generi. E' una risposta bella... Lui ha chiesto metal. Ah, giusto, giusto. Allora, scusate. Scusate. Però, attenzione. Nulla, nulla, nulla toglie. Qui torno, Kevin, ascoltami bene, qui torno all'argomento dell'altra volta perché io ho chiesto che cosa per voi è metal e qui lancio la bomba. Ecco. Che cosa vuol dire metal? Va bene. Claudio. Ragazzi. Digli che devono dire, che bisogna dirgli. Allora, eccole. Eccole di prossimo. E' il prossimo sempre alle 21, sempre qui sui social, su Facebook qua e Instagram di là. Il resto delle dirette, questa e quelle precedenti le trovate sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi. Sovra pressione. Sul canale YouTube iscrivetevi perché poi almeno quando esce la registrazione della puntata e soprattutto il nuovo materiale, alcune cose a cui stiamo lavorando, uscirà prima lì, non è che vi mettiamo a dirvelo in diretta prima, no, lo trovate là, quindi iscrivetevi perché almeno siete i primi a vederli. E anche sul canale quello di TikTok. Ah sì, c'è pure TikTok. Quindi andate anche a ricercare, lì abbiamo, stiamo mettendo un po' di materiale. Sì, stiamo iniziando. Anzi, seguiteci perché ci date una mano magari a poter... A crescere, anche su quella piattaforma lì. Che su quella piattaforma lì, dopo un tot di persone che ci seguono, possiamo fare le live. Quindi poi magari ecco, si cresce anche in quel senso lì. A tutti i nostri amici, abbiatevi al nostro canale YouTube, TikTok. TikTok, ti troverai su noi anche su TikTok, Instagram e Facebook. E vi saranno updatei per ogni singola notizia di noi e della nostra musica. See you the next Wednesday at 9 Italy time. And kisses from Italy. Bye bye. Ciao 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 ciao. Hai rimasto un castrato. Rimasto un castrato, Mar. Do el. Insan...